E dopo che abbiamo realizzato l'opera inizia la fase più importante che è quella del mantenimento in efficienza di questa infrastruttura ed è per questo che abbiamo sviluppato una serie di soluzioni che consentono di tracciare, verificare nel tempo la funzionalità di un'infrastruttura e pianificare tutte le attività successive ad allungare la vita utile dall'infrastruttura stessa. Abbiamo un'ambizione che è quella di cambiare il mondo col quale le ferrovie lavorano. Grazie